Questa sono io e queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante, una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro e loro la fanno per altre tre persone. Siamo a nove e aggiungo tre a ognuno. Fanno 27 perciò... non sono forte in matematica ma la cosa aumenta molto in fretta, capisci? Va bene, va bene, va bene, va bene, articolate le vostre idee per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene Trevor, la classe ritiene mi sembra di capire oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. Tipo... un mondo perfetto. E allora? Allora? Come ti è spuntata in testa?